L'intervendenza dei siciliani sorprenderà il Genova al ventitresimo. Primo angolo della partita, la difesa di Igor non è molto attenta, sbaglia Benedetti e Pedrini è lesto a segnare. Il Genova non perde la testa, riprende ad attaccare e arriverà poi al pareggio al trentesimo con Briaschi sempre pronto al tiro. E sarà ancora Briaschi, protagonista che al volo per poco manca il graddoppio. Il graddoppio comunque è il gol vittoria che arriverà al quarantaquattoresimo del primo tempo con Benedetti, un gran bel tiro il suo dal Coriari.